Come è andato l'ultimo caso che hai seguito con Navarro? Bene. E poi male. Era troppo tardi. Non potevamo fare niente. Sto lavorando a un nuovo caso. Otto scienziati scomparsi. Trovati alle porte dei villaggi. Congelati. Cosa vuoi? Sono passati sei anni. Perché sei qui? Perché io e te sappiamo cosa è successo. E ti serve il mio aiuto. Questo l'ho già visto. Anni fa. Va bene. Facciamo questa cosa e basta. Lavoriamo in coppia per chiudere il caso e poi mai più insieme. Ci sto. Allora, resti o te ne vuoi andare a fanculo? Due pille bruciate e rita auto-inflitte. Quegli uomini sono morti prima di congelare. Ma che cazzo è? Fuori di qui! Forza! Stai bene? Non ci sa fare con quelli a cui tiene. Cosa ci sta sfuggendo? C'era qualcuno tra i ghiacci con loro? Il paese della notte si prende tutti. Uno dopo l'altro. Questa storia non finisce bene. Penso a cose... Cose brutte. Lo so. Anche io. Secondo me tu pensi... che la parte peggiore è fatta. Ti sbagli. Finisci quello che hai iniziato. Travarlo! Tot tapes! Ho! 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 Grazie.